segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te le gare le raccolgono con il crowdfunding io personalmente stava ricordando scuderi ho mandato un contributo quindi sono tra i finanziatori abbiamo trovato il colpevole e spero che dragoni si metta la mano in tasca e gli mandi 100 euro fai sto sforzo che così no fabio 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 la bella verve toscana ogni tanto lo porta un pochino di non aver visto facciamo finta di non aver visto grazie ad alfonso pecora lo scanio grazie a fabio dragoni grazie a benedetta scuderi che la prossima volta ci dirà quando e dove si candiderà all'europeo e noi stiamo stiamo aspettando poca pubblicità poi arriva il collega marco zonetti e parliamo di silvio berlusconi dottore e ci colleghiamo con testi anche